Buongiorno eccoci qua come sempre a sedere con un menù davanti Ormai sono diventato proprio... Ma se fate swipe, poi ho pubblicato il video di quando stavo all'aeroporto 5-6 anni fa Fate swipe up e non perdete Ho mangiato la frittura? Ma avevi promesso che giocavamo? A boccia A beach volley? Sei capace? Sì No? Mamma mia l'oro che hai messo Eh? Sì A che ora giocavamo? A che ora giocavamo? Alle 16? Alle 16 Va bene Tutti al Do stiamo beach Oggi abbiamo anche un campione assoluto Decidete voi di cosa Eccolo il massimo Detto Lo sbara Campione di pasta asciutta Non sbara mai Giocavamo a beach volley Vai là Giocavamo a beach volley Giocavamo là Giocavamo là Bara ma giochi davvero a beach dopo? Sì Beach Con questo sfigato? Beach Ecco che c'è la ragazza Giocavamo a beach volley Giocavamo a beach volley Giocavamo a beach volley Giocavamo a beach volley Nocciolina No Sì Partita Beach volley Io punto tutto su di te Qual è il tuo colpo preferito? Il colpo Scorpione Quello sarebbe? Per dietro Lo sbara è pronto ragazzi Lo sbara Le braccia Le braccia Vai vai Per bene Adesso sinistro Vai No no Quello è box Scaldate Dai Così vai Vai C'è r抱 C'è riamo C'è rima Bisogna C'è rima F�� che si fa? tra le fresche frasche ma non sei stante non puoi riposare mai c'è la cartigenica a mano guarda che cartigenica è da dietro mi hai voluto te zio sbara concentratissimo zio stasera pronostico Italia-Austria difficile però l'Italia è abbastanza favorita attenzione zio sbara te guardano tutti qua favorita l'Italia quindi quanto finisce? risultato secco va bene zio sbara grazie lo zio sbara ha detto che è bella quella camicia con i cigni quello è in fenicotteri è vero qual è il cigni? questo qua e quelli? fenicotteri ho sbagliato io sbagliato animale zio zio sbagliato che bello tornare dal mare in bici vero nocciolina? no mi segue sempre questa ragazza ti piacerà la bicicletta? godrilla eccola vedete quella canotta che top super 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 pronto pronto socio socio com'è? tutto bene ti manco? eh? ti manco? tempo si dai che ora torno c'è più poco ma quando? presto è presto quando? tra un mese a tra un mese ti pare che è presto? no no torno torno ascolta eh no lui mi dì eh? eh lui mi dì di bì oh parlami italiano che io non capisco devi non stare nonna ne hai sfallati i porni e non ci ho fa il culo ne hai capito? no incredibile no sto cazzo no dopo te chiamo quando segna l'Italia eh sta attento sì Federico eh Federico non ti porta al mare? eh quando sto di qui sì eh mi raccomando se no mi arrabbio con lui se non ti porta al mare eh mi senti? no no tutte le settimane al mare eh tutte le settimane piccol'ora ci va al mare ma vedi che nipote oh no nonno nonno oh no sto a fare le scalette dal prosciutto no ce l'ho io ce l'ho io ce l'ho io c'ha quello spagnolo come l'ha tagliato ma l'ha tagliato malissimo non è capace è vero perché taglia Federico ma che loro lo sa tagliare allora viene anche lei qua a Forte dei Marmi e lo taglia lei va bene? va bene va bene allora ve lo vedo presto Ladies and gentlemen, mister Zio Sbara! Mamma mia, pronto? Pronti, senti, via! Zio, che ne pensi di questa partita finora? Zio Sbara che è un'ora che ha su Instagram. Le partite che fai tu? Le sento. No, non le vedi, che hai detto? Le sento. Lui le partite le sente. Con le orecchie però. Con le orecchie. Chi ha segniato? Chi esa? Chi ha segniato? Chi esa? Chi ha segniato? Vaffanculo. Lo zio! Pronti! Oh no! Chi ha segniato? Chi esa? Chi ha segniato? Chi esa? Chi ha segnato? Chi ha segnato? Chi esa? Ma chi? Vaffanculo. No! Ah! Sei contento? E beh! Grande! Speriamo che mantieni fuggiti! Vai! Ci sentimo dopo! Le hai sfallati, Proppi? Quei, quei boss! Quei boss te sbaro! No! Che so, con la polveriera! Va bene! Ci sentimo dopo! Va bene! Ciano! Ciano! Ciano, ciano! Ciano, ciano! Ciano! Ciano, ciano! Chi ha segnato? Insegna! Chi? Non lo so. Non lo so. Cosp Go! Chi ha segnato? Non lo so. Non l'ho visto. Chi ha segnato? Vaffanculo. Ha segnato Pessina, no? insigne sto cazzo no sei contento oh sei contento top ormai è fatta